Siamo con Davide Borgione del Barcanova, centrocampista, oggi 1 a 1 qui a Collegno con l'Olympic, una partita difficile, poi si è messa male anche perché siete rimasti in dieci, raccontaci un po' dell'espulsione, cosa è successo lì? Ma un'incomprensione tra Molise, Ruben e l'arbitro, ma ci sta, era comunque una partita molto sentita, perché per le posizioni in classifica, i punti pesanti, sicuramente ha condizionato la partita, questa espulsione. Sì, avviso che non l'avete presa molto bene per questa espulsione. Sì, sinceramente non abbiamo capito bene come è andata, perché è successo tutto in una frazione di secondo, quindi abbiamo chiesto spiegazione all'arbitro, però una volta che è espulso il giocatore... E comunque anche in dieci, alla fine avete avuto quella palla con Nardi, salvato sulla linea, poteva essere il gol del 2 a 1. Sì, hanno salvato, non abbiamo capito bene se era dentro, l'arbitro ha visto così e ci sta. Vabbè, comunque siete ancora in gioco per le prime posizioni. Sì, sì, sicuramente. Ok, grazie David. Prego, prego. Sì, sì, sicuramente.